Ress, perché da tre sei una macchina e da due un po' meno? Questo devi spiegarmela. Perché? Perché la vecchia regola è perché tirare da due se un metro più indietro vale da tre. Quindi voglio dire, tanto vale, visto che ci sono, per poco, vale un punto in più. Allora specializziamoci su quello. Allora dai, i tatuaggi, spiegami un po'. I tatuaggi? No, beh, i tatuaggi hanno, visto che io ero un antitatuaggista fino ai trent'anni, sono semplicemente significato figli, segno zodiacale dei figli, moglie, lotto, non è solo il numero, è anche la data di nascita della mia moglie, le inizialità della mia famiglia. Sono tutte robe che riguardano la mia famiglia, insomma, nulla di così messo a caso. Perfetto, adesso spoilerò una cosa, cioè la tua passione per i videogiochi. Quella è una malattia, è una malattia che non va più via, però comunque, sì, purtroppo ognuno sa le sue, a me piace leggere, perché leggo anche tanto, però obiettivamente la Playstation è una cosa che in casa non può non esserci. Purtroppo ho preso questa qui da quando ho iniziato a girare l'Italia, che ero solo, e mi è rimasta negli anni, nonostante ormai sono grandicello, me la porto dietro. Grazie. Grazie.